Oggi Iron Man dovrà affrontare su Melon Playground un intero esercito di zombie creato da ricche morti, ci riuscirà? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Ricco parliamone da scienziato pazzo a scienziato pazzo, creare un esercito di zombie per distruggere il mondo è una pessima idea e io non ti permetterò mai di farlo, ok? Distruggendo questo mondo potremmo crearne uno migliore, un mondo popolato da Marcelli, potremmo comandarli, potremmo vivere come dei re! Un mondo popolato solo da Marcelli? Ma che schifo, ma ti pare? Ragazzi, abbatteteli! Mani in alto, subito! Fate quello che vi dico o vi sparo! Dai, su! Scusate, ma chi è l'imbecille che vi ha dato il fucile di Among Us? È stato Johnny, vero? Quella è un'arma ancora in fase di test, non dovete usarla, potrebbe finire malissimo! Posatela subito! Capo non si preoccupi, deve fidarsi di noi! Eh, credo di averli uccisi tutti! Ops! Io però ve l'avevo detto! Johnny è sempre colpa tua! Io ti odio! Ma poi perché sto diventando trasparente? Sono già diventato un fantasma? Ma dai, ma che schifo! Ragazzi, credo di aver fatto un casino, quindi per favore scappiamo, ok? Bro, non so se te ne sei accorto, ma hai perso una gamba! Ma come hai fatto? Oh, oh! Sei vivo? Bro, no, no! Scusa, non volevo spingerti! Ma, ma davvero? Ma come hai fatto a perdere la gamba? Fino a un minuto fa ce l'avevi? Quindi questa non era la gamba di Marcello? Ma la mia? Ah, ahia! Che dolore! Ma come ho fatto a non accorgermene prima? Fa malissimo! Vi prego, datemi una mano! Sto perdendo troppo sangue! Ah, che dolore! Tranquillo, ci penso io! Eh... Che tristezza però! Imbecilli! Io intendevo portatemi in ospedale, bendatemi la gamba, non sparatemi in testa! Ma che problemi avete? Finalmente, dopo anni e anni, il mio sogno di conquista del laboratorio di Poggo sta per realizzarsi! Tutti i suoi esperimenti saranno i miei! Infatti mi sono liberato di lui, di Marcello, di quel soldato imbecille, ma manca ancora una personcina! Wow, 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 bro! Bro! Stai calmo! Bro! Bro! Devi stare calmo, bro! Ok, bro! Ok, bro! Stai attento a quello che fai, bro! Calmissimo! Altrimenti ti prendo a pugni in faccia! Sì, ma io ho una revolver! Ma perché questi soldati sono tutti degli idioti? Ma non ho capito! Chissà se da fantasma posso comunque uccidere le persone! E uno, e due, e tre! Eh, l'ho colpito? Ehi là! Oh mio Dio! Eh, sì, l'ho colpito, ma non è morto! Ah! No, no, aspetta! Ma... Ma perché mi sono ritrovato la mia testa in mano? Cioè, non dovrei essere un fantasma? Dov'è finito il mio corpo? Per fortuna è un imbecille! Cioè, si è ammazzato da solo anche da fantasma? Vi rendete conto? Aspetta, ma posso ancora muovermi e parlare? Ma che figa... Ah, è vero! Sono un fantasma me nero scordato! Perdonatemi! A mali estremi! Estremi rimedi! Johnny, pioggia di armi di Thanos! Finalmente il laboratorio è mio! Aia! Che dolore! Bravo, Johnny! Per una volta sei stato utile! E adesso ritorno a fare il fantasma! Ma quell'imbecille davvero credeva di essere l'unico scienziato ad avere dei cloni? Ma almeno lo sa chi siamo? Secondo me no! Va bene, Rick, ma non ti sembra un tantino esagerato? Non è che mi hai creati un po' troppi di zombie? Vuoi davvero distruggere il mondo? Stai zitto, altrimenti tu sei il prossimo! Ok? Anzi, mi è venuta un'idea geniale! Preparati! Vediamo se il mio esercito infinito di zombie è abbastanza affamato! Buon appetito! No, Rick, aspetta! Stai fermo! Non mi interessa! Mangiate! Credo abbia funzionato! Cervello! Cervello! Sento odore di cervello! Eh, sì! Questo è proprio cerve... No, no! Questo non è cervello! Questa è una minigun! No, 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 no! Cervello! No, cerve... Sì! Devi esplodere! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè, lo ha consumato con la minigun! Ma sta roba è fortissima! Three days later... Che cosa sei venuto a fare qui, eh? L'ultima volta hai ucciso Spider-Man, Wolverine e Daredevil! Che vuoi? Io non ti aiuterò mai! Ok? Quindi vattene! Subito! Altrimenti mi metto l'armatura e ti sparo un proiettile nel cervello! Via! Vengo in pace e vengo per trattare! Fidati che conviene anche a te! Allora? Vuoi ascoltarmi? No! Non voglio ascoltarti! Perché sicuramente c'è una fregatura! Vero? Te lo ripeterò con le buone! Altrimenti poi passiamo alle cattive! Alle molto! Molto! Aia! Aia! Mi sono spezzato un braccio! Dicevo! Alle molto molto cattive! Ti piace questa minigun gigante? Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! No! Aspetta! Aspetta! Non pensavo funzionasse davvero! Credo di aver appena ammazzato Iron Man! Scusa! Te lo ripeterò con le buone! Fidati! Accetta! Sono l'Iron Man di un altro multiverso! Se rifiuterai! Lui ti ucciderà! E adesso ti prego! Digli di sì! Non voglio morire di nuovo! Oh! Suono di fantasmi e di multiverso! Sì! Va bene! Sì! Accetto! Tutto quello che vuoi! Prima di tutto dopo questa missione mi darai il progetto per costruire un'armatura come la tua! Ok? Ah! Ecco dov'era la fregatura! Maledetto! Seconda cosa! Quel pazzo di Rick insieme a Morty che probabilmente avrà già ammazzato sta creando un esercito infinito di zombie per distruggere l'intero pianeta e io non posso permetterglielo! Oh mio Dio sono riuscito a dire permettergli, permettergli, vabbè, quello! E tu mi dovrai aiutare a salvare il mondo! Affare fatto? Sì ok ma io quindi cosa ci guadagno esattamente? Non l'ho ancora capito! Bro ma sei scemo? Ci guadagni letteralmente la fama mondiale per aver salvato il mondo! Mi sembra abbastanza semplice come concetto, giusto? Effettivamente non ci avevo pensato! Iniziamo! E finalmente è arrivato il momento di costruire la nuova armatura! Io sono Iron Man! Io salverò il mondo! Sì ma non si ficca la maschera! Oh! Maschera! Jarvis! Aiuto! Mi date una mano? Attivazione mano Hulkbuster! No, no, non intendevo quella maa! Sto piangendo! Ho capito il pugno della Hulkbuster! Ma sono rimaste solo le gambe! Mi sembra un tantino eccessivo! Ma dov'è Iron Man? Iron Man! Ma perché ce ne sono due? Uno senza gambe e uno senza testa! Sì! Johnny! Potresti pulire tutto! Grazie! Ho la vaga sensazione che il mondo esploderà! Mi sa proprio di sì! Poggo io sono pro! Poggo perché sei sopra Super Mario? Ma che problemi hai? Senti Ferro Man! Non farti domande! Hai detto di essere pronto? E su! Vai a salvare il mondo! Che tra l'altro fa anche rima! Hai visto quanto sono rapper? Va bene! Procediamo! Chiusura dell'armatura! Jarvis attiva i propulsori di mani e piedi! È il momento di combattere! Combattere su! Non glielo hai ancora detto vero? Stai zitto! Dopo lo faccio! Non ti intromettere! Oh ma guarda un po'! Vedo che Pogo non vuole sporcarsi le mani e ha mandato i suoi scagnozzi! Sì poteva sceglierne uno più scarso cioè ha mandato Iron Man mi sembra ingiusto! Ma non fa niente! Il mio esercito di zombie ti distruggerà e poi procederà a distruggere l'intero pianeta! Quindi preparati! Non potrai fare nu- Eh sì! Iron Man ha perso di nuovo la testa però! Non può andare sempre a finire così! Senti Giovanni devi smetterla di lanciarmi contro le persone! Fammi combattere e basta! Come nei film! Come nei fumetti! Ok? Iron Man come fai a conoscere il mio vero nome? Cioè stai parlando con me? Sì! Sto parlando con te che stai registrando questo video e che stai muovendo la mia mano! Sì però ti prego che ansia! Anche meno! Anche meno un cavolo! Fammi combattere! Ok? E smettila di lanciarmi ovunque! Va bene scusa! Qui qualcuno è un po' permaloso! Vai! Combatti! Ah! Maledetti zombie! Vi spacco! Sì sì sì! Se solo non stesse laggando Melon Playground! Ecco! Gli si è spezzato il braccio! Ti piace combattere? Adesso divertiti! Jarvis chiama tutte le armature! È il momento della fase finale del combattimento! Stiamo arrivando! Scendere in picchiata! Sì! Sì! Distruggeteli tutti! Non deve salvarsi neanche uno zombie! Neanche il... Non so parlare! Che bello! Iron Man è stato un vero piacere collaborare con te! Ed è solo che non ti ho detto una piccolissima cosina! Basta! Che cosa vuoi ancora? Ti ho detto che le mie armature te le regalo! Va bene? Quello che in realtà ha salvato il mondo non sei tu! Sono io! Perché tu sei morto! Sei morto! Muori! 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 Oh! Oh! Devi morire! Iron Man! Iron Man! Ma quest'arma fa schifo! Ma perché non muore? Johnny mi hai detto che avrebbe funzionato! Ma che figure mi fai fare? Vabbè! Riproviamo! Quello che ha salvato il mondo in realtà sono io! Perché tu sei morto! Hai capito? Quanto mi dispiace! Il mio piano ha funzionato! Al prossimo video! Tieni! Prendi questi 5 euro! Grazie! Ehi! Ma che fai? Dei 5 euro un barbone? Perché scusa? Che problema c'è? Con 5 euro questo? Si compra le armi illegali! Ma che dici? Dove le compri le armi illegali a 5 euro?